Ciao, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Essence, si chiama I Love Extreme, è il blu ed è la versione waterproof, volume mascara, allora intanto vedrete l'applicazione, comunque sia vi faccio vedere subito lo scovolino che è cicciottissimo, ora lo vedete all'opera. Grazie a tutti. Allora, cosa dire di questo mascara? Intanto che è un prodotto low cost, sicuramente, poi io l'ho usato davvero fino alla fine, quindi applicandolo spesso, aprendolo, chiudendolo, non ho avuto problemi e fino alla fine non si è seccato, quindi altra cosa molto positiva e mi è piaciuto tanto perché fa un bell'effetto alle ciglia, intanto è un nero nero, poi fa un bell'effetto alle ciglia, le allunga bene, le volumizza, è occhi da cerbiato, un po' ciglia finte, ma molto naturale, quindi mi è piaciuto davvero tantissimo, se non si è capito. Vi posso dire che questo mascara l'ho usato anche al matrimonio di mia sorella, quindi da dire era davvero per un evento e quindi davvero super promosso, poi è low cost, waterproof, tranquillamente, dura tutto il giorno, l'ho messo alla prova con le allergie in primavera, con le lacrimazioni degli occhi, è davvero waterproof, un po' col caldo, quindi dura tantissimo, non secca le ciglia, durante il giorno non diventano rigide e non perde neanche i pezzettini di colore, quindi davvero top. È unico ai prodotti che io sicuramente vado a ricomprare perché ho la certezza di avere un valido prodotto nel beauty, quindi se voglio un evento, un qualcosa, ok, è quello e so come si comporta. E allora, questo era il mascara, è il Love Extreme, quello blu, questo qui, blu, waterproof dell'essence, fatemi sapere se l'avete provata, come siete trovate, io come sempre spero vi sia utile e se vi è piaciuto il video mettete un like e iscriviti al canale, così non perde le prossime recensioni beauty low cost. Alla prossima, ciao!